non lo sapevo restami puoi parlare le navi di paro hanno bloccato il porto gli dei maledicano silano e la sua schifosa setta non si stancano mai di mischiarsi di loro che sto andando bloccato ho rifiutato di pagare i tributi ad atene e paro sta approfittando della situazione ma dio alla speranza di colpire per primi posso aggirarli con la mia nave e liberare il porto solo tu contro un'intera flotta non vedo altre opzioni ma ho l'equipaggio migliore del mare geo fa attenzione e torna da me tesoro ronti alla partenza Andate a bordo! Piano, ora! Più veloci! Spiegare le vele! Su le vele! Posizione di battaglia! Spiegare le vele! Spiegare le vele! Spiegare le vele! Pronti a colpire! Ecco! Ecco, non lo sveglonacci! Arcelli, non lo sveglonacci! Pronti all'alto! Comandante, dobbiamo dire! Pronti! 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 Grazie a tutti! 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 Alzate quella vela! Pronti con le funi! Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, spero che ti sarà chiaro quando lo incontrerai. Troverai ciò che cerchi sull'isola di Terra. Ho mostrato la rotta al tuo navigatore. Ci vedremo in Laconia. Ci sarò. Che Poseidone ti protegga. Buon viaggio. Buon viaggio, Terra. Ci sarò che c'è un'altra parte. E' un'altra parte. E' un'altra parte. E' un'altra parte. Grazie a tutti.